Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultimissime notizie sulle elezioni politiche del 2022-25 settembre. Contatti Calenda-Renzi verso un accordo Azione Italia Viva secondo la presse. Il leader di Azione Carlo Calenda sarebbe vicino a un accordo con Matteo Renzi di Italia Viva in vista delle prossime elezioni politiche. Come vi avevo annunciato ieri, si metteranno insieme o prima delle elezioni o dopo le elezioni, comunque il futuro è quello. Si mettono insieme per poi dire noi siamo l'ago della bilancia, valiamo il 10%, che facciamo? Andiamo di qua a destra o andiamo di qua a sinistra? Avendo poi una forza contrattuale che in caso loro siano veramente l'ago della bilancia, poi pretenderanno dei ministeri di peso o addirittura anche la presidenza del Consiglio. E questo qui punta Carlo Calenda. La Lega corre con il simbolo del 2018, Salvini Premier. Alle elezioni del 25 settembre correrà con quello stesso simbolo e quando confermano fonti del partito, il contrassegno elettorale riporta la scritta Lega sopra l'effigie del guerriero Alberto Dagiussano e in fondo la scritta Salvini Premier. Io la scritta Salvini Premier l'avrei cancellata, decisamente porta un pochino di sfortuna. E così ha lavoro su lista unica di centristi nella coalizione Salvini, Meloni e Berlusconi. Non due mini liste separate, ma piuttosto una singola lista che racchiuda tutte le varie anime centriste della coalizione di centrodestra. Questo secondo quanto apprende la pressa da fonti parlamentari, lo schema con cui si sta lavorando nelle ultime ore. La scorsa settimana UDC e CI, Cesa e Brugnaro e NCI, IAC, insomma Lupi e Totti, avevano presentato le rispettive alleanze con i simboli. Secondo quanto filtra, alla lista unica dei centristi dovrebbero essere attribuiti 13 collegi uninominali, cioè 13 posti di lavoro, due in più quindi di quelli stabiliti al termine della riunione dei leader. Ecco, tutti questi partitini, micropartiti messi insieme, vengono garantiti 13 posti di lavoro. Un po' quello che ha fatto Letta con la sinistra, che ha garantito ai partitini che si associavano con lui un certo numero di posti di lavoro. E se voi avete visto è tutta una spartizione di posti di lavoro, i parlamentari sono dei dipendenti statali che si spartiscono ogni elezione i posti di lavoro. Ecco, ad incidere nel nuovo il quadro generale il ritorno di coalizione d'Italia al centro di Giovanni Totti. Io mi chiedo, ma chi è che vota Italia al centro di Giovanni Totti? Non ho mai conosciuto nessuno che votasse uno di questi micropartiti. Ma realmente prenderanno dei voti? O verranno dati d'ufficio? Daglielo un po' così. Bah, insomma. Un giorno conoscerò qualcuno che vota uno dei partitelli da 0, qualcosa. Il percorso unitario, viene spiegato, è stato caldeggiato dagli stessi leader, anche per offrire in vista delle elezioni una posizione da contrapporre al centro di Matteo Renzi e Carlo Caletta. Ma che dite? Questa cosa è roba fatta per gli stipendi, quale da contrapporre al centro di Renzi e Caletta? Beh, è fatto per avere 13, come vi dicevo, collegi uninominali, 13 posti di lavoro. Direzione PD slitta nel fine settimana, prosegue il lavoro sulle liste. Di Battista dice «Non ci sono le condizioni per la mia candidatura alle politiche, non mi vogliono». Dice «Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura, ho letto i vostri commenti e vi ringrazio per i suggerimenti e per la vostra stima. In questi giorni ho fatto tutti i passaggi che consideravo necessari per prendere una decisione approfondita. Come potete immaginare non è stato facile, non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni», dice Di Battista, attraverso un video sui social. «Ho parlato con Conte e ho compreso che ci sono molte componenti nell'attuale 5 Stelle che non mi vogliono». Il primo è Conte, ovviamente, perché Di Battista è un candidato a prendere il posto di Conte, come la Raggi, era quella che doveva prendere il posto di Conte su preferenza di Grillo e tutti e due sono stati fatti fuori. Loro pensano da Grillo, invece è stato Conte. Bene, andiamo avanti, vediamo che Tajani dice «Forza Italia punta al 20%, auguri Tajani portavoce di Berlusconi» e poi dice «Nel nostro simbolo Berlusconi è il nome del Partito Popolare Europeo». Fantastico, proprio nel simbolo hanno scritto «Partito Popolare Europeo», P.P.E. E va bene, aggiungete quello che volete. Salvini dice «Se Meloni avrà più voti, Premier sarà lei. La regola del voto in più vale anche per il leader leghista. Questione di democrazia, se prende un voto in più Giorgio Meloni il Premier lo fa Giorgio Meloni, se prende un voto in più Matteo Salvini lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può». Finalmente Salvini, dopo tanti mesi, ha assimilato che Giorgio Meloni potrà essere il Premier se avrà più voti. Beh, meglio tardi che mai, giustamente. Dall'altra parte, invece, c'è il gratte vinci della parte di sinistra, tra Letta, Renzi e Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi più ne ha, più ne metta. Beh, anche nel centrodestra ci sono un bel po' di leader, insomma, Salvini. Riuscire a dire tutto giusto non ce la si fa, eh. Anche nel centrodestra c'è una lista di partiti con leader politici, pertanto, vabbè, andiamo avanti. Sala dice «La flat tax sarebbe un errore clamoroso, economicamente insostenibile per un paese già enormemente indebitato. La progressività delle tasse è stata una conquista politica e sociale per una maggiore equità che va a difesa. Per questo sono convinto che la flat tax sia un errore clamoroso. Non credete a queste balle portate avanti da politici superficiali». E poi andiamo avanti. Alessandra Todde si candida alle parlamentarie Movimento 5 Stelle, chi se ne frega. Renzi dice «Terzo polo, dipende da Calenda, abbiamo un'occasione storica». E poi Fratoianni dice «Porte aperte al Movimento 5 Stelle». Fratoianni vorrebbe che i 5 Stelle tornassero vicino al PD per avere più possibilità di battere il centro-destra. Bene, come vi dicevo, di Battista Raggi e Casalino, tre big 5 Stelle fuori dalle parlamentarie. Cioè, sono stati praticamente sfatti accantonare. Albertini pronto a tornare in Parlamento. E poi abbiamo anche Berlusconi. Mia candidatura, ora vediamo. Sul mio futuro vedremo. Vediamo, oggi parliamo del futuro dell'Italia. Mi hanno assalito dicendo che era importante che mi candidassi. Ora vediamo, lo dice in diretta su Radio 24. E poi il Presidente di Forza Italia ha aggiunto che la coalizione sarà atlantista e europeista, mentre su una possibile flat tax anche fosse il 23%. Salvini dice «15». Ha ribadito che porterà crescita e maggiori entrate, non deficit. I paesi che l'hanno adottata hanno visto un aumento del 30% delle proprie entrate, oltre a maggiore sviluppo e occupazione. La confermiamo quindi nel programma dei primi 100 giorni di governo. E qui c'è la novità. Salvini dice «entro i cinque anni» e Berlusconi dice «nei primi 100 giorni». Anch'io sono favolevole alla flat tax. La mia unica paura è che non ci sono le coperture economiche ed è una grande scommessa. O la va o la spacca. E speriamo che la va a questo punto perché non è che si può gufare contro il proprio paese, chiaramente. Grazie a tutti e arrivederci.